Non solo più profonde, le navi porta container saranno anche più lunghe, per questo parallelamente ai lavori di dragaggio l'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale ha avviato nello scalo commerciale di Salerno un intervento per ampliare l'imboccatura del porto e consentire l'attracco di navi più profonde ma anche più lunghe. Tra pochi giorni la consegna ufficiale dei lavori illustrati nel dettaglio questa mattina dal segretario generale Francesco Messineo. Oggi l'obiettivo che noi dobbiamo perseguire è quello di consentire l'ingresso nel porto di Salerno delle grandi navi di ultima generazione. Ripetiamo spesso che le navi diventano anno dopo anno sempre più grandi, è un fenomeno che si chiama gigantismo navale che dura ormai da 30 anni e quindi le grandi navi da crociera, le grandi navi porta container, i grandi traghetti crescono in profondità come pescaggio ed ecco perché dobbiamo scavare fondali perché altrimenti le navi si insabberebbero, non potrebbero entrare ma cresce anche la lunghezza di queste navi. La geometria dell'imboccatura del nostro porto presenta una curva all'ingresso e quindi le navi al di sopra di una certa lunghezza non riescono fisicamente a passare attraverso la nostra imboccatura. Ecco quindi che è altrettanto importante come il dragaggio anche allargare l'imboccatura. Come in ogni cantiere naturalmente i lavori potrebbero creare qualche disagio agli operatori, una delle banchine del porto sarà impiegata per costruire dei cassoni che saranno poi utilizzati per realizzare una diga di protezione. Per questo il segretario generale invita tutti ad avere pazienza perché naturalmente l'ampliamento del porto e la possibilità di far attraccare navi più grandi consentirà uno sviluppo a beneficio di tutte le categorie. Non ci saranno rallentamenti però è chiaro che la presenza in porto dell'ennesimo cantiere che andremo ad aprire creerà inevitabilmente dei disagi. Nel caso specifico questi cassoni saranno realizzati su un bacino autoaffondante che sarà ormeggiato dall'inizio del mese di marzo al molo Manfredi e questi cinque cassoni saranno realizzati uno dietro l'altro. Chiaramente noi verificheremo che questa produzione sia la più veloce possibile, i cassoni una volta realizzati saranno ormeggiati dentro il porto e poi nelle settimane e nei mesi immediatamente successivi saranno sistemati nel loro sito finale che è quello lungo la diga Forania. Un po' di pazienza anche per gli operatori che si servono del porto perché è come per l'autostrada poi nasce la terza corsia. Sì esattamente, questi sono lavori come ripetiamo spesso attesi ormai da 15 anni, da decenni e quindi siamo molto contenti che finalmente stiamo aprendo uno dietro l'altro questi cantieri però come lei giustamente detto questa fase dei lavori che è limitata però a poche settimane alla fine consentirà al porto veramente di cambiare pagina e quindi di consentire finalmente il tanto auspicato arrivo di queste grandi navi, le navi da crociera, le navi commerciali che potranno essere accolte nel migliore dei modi nel porto di Salerno.